Allora, oggi sono venuto a percorrere la nuova ciclabile che corre lungo la strada antica di Collegno e che collega via Pietrocossa con Corso Marche, siamo evidentemente a Torino. Questa nuova ciclabile è una bidirezionale, quindi può essere percorsa in entrambi i sensi di marcia. Da un lato è protetta dalle macchine parcheggiate e dall'altra parte della marcia a piede. È una ciclabile sufficientemente larga, non ha assolutamente velocità, corre dritta per lo più. Gli incroci come vedete qua sono anche larghi e molto ben visibili, anche per le macchine che dovessero arrivare e svoltare. Non vedo grosse velocità, è comoda, è dritta, problemi dal punto di vista dei ciclisti non ce ne sono assolutamente. Comunque vedete l'acciclabile nuova, ben visibile, ben segnalata e dovrebbe appunto poi far parte dell'asse che collega Collegno col centro della città di Torino. Laggiù a momenti cozzano per una precedenza non data, ma va bene lo stesso. Ok, sono arrivato in fondo, spero presto di poter commentare l'acciclabile completa fino a Collegno.